Ciao a tutti, ecco il cotto e mangiato di oggi, la domanda di oggi è mi sto illudendo, ascoltate un attimo la premessa perché è importante, è molto importante oggi. Allora questo è un video che metterò anche su youtube, il primo e l'ultimo di questo tipo, per invitare le persone che magari vogliono vedere più interattivi o hanno più domande eccetera, volevo dire che questi tipi di video li metto su facebook perché mi viene molto più comodo, faccio prima, per me il tempo è veramente importante nella vita, è la cosa più importante che ho nella vita e voglio sfruttarlo al meglio, per cui se a qualcuno interessa questo genere di interattivi molto veloce, che io chiamo cotto e mangiato, è meglio che si iscriva alla mia pagina facebook, anche se non si iscrive io li metto liberi, cioè li potete vedere anche se non mi chiedete l'amicizia, credo, fatemelo sapere, penso di sì perché io li metto col globo, cioè li metto per tutti, quindi non credo che li possano visualizzare sulle mie amici, quindi state tranquilli, tra l'altro Deborah sei tu quella che mi ha chiesto l'amicizia, fammi sapere perché ero felice, poi stamattina mi sono svegliata perché secondo me l'ho visto stanotte questa cosa, o non so a che ora, ho visto questa cosa e poi ho detto ma me lo sono sognata che Deborah mi ha chiesto l'amicizia su facebook o è vera questa cosa, dopo salta a vedere dovresti esserci, quindi sono felice fammi sapere, fammi sapere ancora credo di doverti rispondere a qualche mail, allora ieri sono stata malissimo, ieri sera e quindi anche un po' tutta la notte, oggi mi dedico a Anna Maria, Consuelo, Rossella e Valentina spero, non so se ce la farò veramente per tutti e vi dico questa cosa, se mi iscrivete, ve l'ho già detto mille volte, mi raccomando sappiate quello che volete da me, perché io dopo 4-5 scambi di email o di messaggi dove ancora non ho capito cosa volete, tendo a mollarvi in mare aperto perché non ho tempo, non per cattiveria, se non sapete neanche voi quello che volete non posso saperlo io, lo dico con molto amore e sono anche felice di questa mia attitudine perché con gli uomini è molto utile, non amo molto perdere tempo nella vita, infatti questo interattivo di oggi nasce anche per questo, perché secondo me a volte perdete la vita dietro cose che non riesco a capire emotivi molto spesso, perciò è molto importante capire se ci stiamo alludendo, la domanda non è sto perdendo tempo, potrò farla, diciamo che l'opposta mi sto alludendo e vedremo la risposta, quindi se avete bisogno di qualcosa da me, siate chiari e netti, io tendo a mettere, a dare, diciamo a favorire quando ho tempo le persone o che già conosco e mi piacciono umanamente perché sono pratiche o le persone pratiche, quelle che sanno già il fatto loro, è un po' come se andate a una festa, quelli che si presentano a votare, poi non hanno la scheda elettorale, non hanno i documenti, non hanno niente, li devi imboccare, questo genere di persone tendo a metterle dopo, cioè se mi avanza del tempo, allora mi occupo della vostra anassertività, se non mi avanza tempo non ce la faccio, io non è che mi dimentico delle persone, è che purtroppo bisogna fare una selezione nella vita, quindi secondo me è meglio essere preparati. Per quanto riguarda invece la domanda di oggi, questo genere di interattivi, di solito sono più brevi di oggi, cotti e mangiati li pubblico semplicemente su Facebook per fare prima, invece qua mi dedicherò le cose un po' più articolate, un po' più interessanti, anche perché qui parlo ad altavoce, il canale dovrebbe essere un canale di rilassamento, quindi ieri mi ha lasciato il commento uno, tipo non si riesce a stare svegli fino alla fine tutto, perché crede di insultarmi, quando in realtà ancora non ha capito il genio della finanza, che questo è un canale dove in realtà ci si dovrebbe addormentare alla fine di un video, perché è un canale rilassante, quindi questa proprio questa arroganza insita di voler sapere, tipo o cercare di insultarti passivamente, Cioè siete dei miti, un po' zi di scienza, un po' zi di scienza, oggi mi sono svegliata di un acido, l'ho detto alla mia amica, se incontri qualche cancro per strada non per stargli un piede oggi, ecco, allora bene, mi sto alludendo, che domanda è? Perché stavo ascoltando ieri, c'ho i miei revival, allora ultimamente c'ho questi revival di cantanti di alta levatura musicale, che sono Gatto Panceri e Marco Masini, e c'ho due o tre pezzi che ascolto in ridondanza, di cui uno è un pezzo di Gatto Panceri che dice tutto il pezzo, dice lo vuoi, io sì, no? E che ho detto, vedi, così dovrebbe essere nelle storie d'amore, lo vuoi, io sì, altrimenti si aprono proprio le fasi del dubbio che imperano e circondano l'universo, e ci sono persone che stanno agganciate 60 anni a relazioni improbabili, ovviamente c'è un motivo sempre per cui stiamo agganciate alle situazioni, perché comunque c'è. Adesso questo è un video veloce, non è uno di quei video dove spiegherò carta per carta, dove vi faccio i riccioli, non sarà assolutamente così. Il punto è, se volete sapere con velocità se vi state eludendo, è questo il video. Se volete più video di questo tipo, andatevele a cercare su Facebook, se vi vergognate di vedere che i vostri amici vedono, che voi guardate video di tarocchi o cose di questo tipo, non c'è bisogno che mi chiedate l'amicizia perché li vedete lo stesso. Allora, andiamo a vedere se vi state eludendo sulla vostra situazione, potrebbe anche non essere una situazione amorosa, cerco di darvi la risposta e basta. Allora, mi sto eludendo. Questo dado l'ho scelto anch'io e sono sicura che è il mio solo dalla prima carta, perché io posso semplicemente solo coinvolgermi in situazioni dove dall'altra parte c'è qualcuno che sembra minima, cioè che proprio non possiamo dargli nessun tipo di parvenza di serietà, perché altrimenti io non mi diverto. Quindi, allora, ti sta eludendo. Se hai una situazione amorosa, allora, dipende che cosa hai chiesto, perché potrebbe anche essere che tu hai mandato un curriculum o speri in qualche cosa che io non so, cioè di poterti comprare la macchina. Cercherò di stare un po' sul vago, è ovvio che so che il 90% di voi chiede per l'amore, quindi un po' mi concentro su quello. Allora, la situazione è questa. La situazione è quello che tu, su cui ti sta eludendo, è qualcosa che effettivamente a prima vista gli dai due lira, cioè nel senso ha tutto dell'illusione a guardarla da fuori, con superficialità. Ha tutto dell'illusione la situazione. Cioè, è proprio quella cosa che se è un sogno, tipo voglio viaggiare, andare in giro per il mondo, ti sembra quel sogno inafferrabile, è tutto il contrario di quello che può sembrare concretezza, è tutto il contrario di quello che può sembrare stabilità, è tutto il contrario di quello che può sembrare un sì, ma è qualcosa di molto allettante. Ci riferiamo a questo, che possa essere una persona, una relazione, un sogno, qualunque tipo di cosa. Il tuo atteggiamento, invece, è l'esatto opposto. Cioè, tu sei la persona più seria di questo mondo, cioè sei praticamente più seria del Papa, perché sto Papa qua non è che poi ti dà l'idea di molta serietà. Seria come Papa Ratzinger, o serio come Papa Ratzinger. Quindi vuoi fare il giro per il mondo e fai il ragioniere, o fai, non sai esattamente quello che si dice, gli immaturi dei film. No, sei una persona anche troppo matura, no? E quindi perché hai questo dubbio dell'illuderti o meno? Hai questo dubbio perché, questo infatti mi rispecchia molto come situazione, perché sei una persona molto seria, o comunque se non sei molto seria, nel senso che vedete che io sono una cazzona, sei seria dentro, cioè sei una persona che quando dice una cosa la fa, che sei una persona che è affidabile, sei una persona che è strutturata, comunque, cioè non sei una persona che parla per dare aria la bocca di solito, anche quando sembra che tu lo faccia, e comunque sei una persona che può anche essere stata ferita e disillusa, anzi sei una disillusa, ecco, sei un disilluso o sei una disillusa, quindi per cui quando vedi le farfalle in cielo dici fra tre giorni muoiono, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè questa è la tua risposta quando vedi una farfalla che vuole. Allora, il problema, allora, cosa ti posso dire di questa situazione? in realtà, in realtà ti dico questa cosa, la risposta è complessa se ti stai luidendo meno, perché? Innanzitutto questa situazione che ti sembra troppo bella per essere vera o ti sembra troppo frivola per essere qualcosa di concreto è molto più concreta di quanto credi, su questo te lo posso dire, cioè al di là della farfalla c'ha il suo senso, c'ha l'elefante, come direbbe Zarrillo, ok? quindi la situazione apparentemente sì, stiamo ballando il can-can, ma in realtà lo stiamo facendo con condizioni di causa, non credere che poi dopo la farfalla va a posarsi su una cosa a caso, quindi questa situazione, allora, se è una persona è più seria di quello che credi, sì, sembra un cazzone o sembra una cazzona, ma in realtà c'è della sostanza dietro tutto ciò, cioè non è una persona che è lì a caso nella tua vita, d'accordo? Se invece è una situazione, è una situazione che ti può dare molto di più di quello che credi. Se è un uomo che è stato con centomila donne e dici no per favore perché io sono seria come l'immacolata concezione, ti assicuro che nei tuoi riguardi non ha lo spirito che aveva con le altre o viceversa se è una donna. se è una situazione che sembra tipo sto cercando, io sto lavorando in un posto serio alla team, che ne so, serio, non lo so, non ci ho mai lavorato alla team, cioè stavo lavorando in banca, ok, e voglio andare a fare l'animatore di un villaggio turistico ha più senso di quel che credi, ok? Se devi scegliere tra fare il ragioniere o il flautista, non so come si chiami, che suona il flauto, ha più senso di quello che credi, cioè se non dare retta al nonno che diceva è meglio avere una laurea, ok? Perché Guccini quando ha scritto questo nell'avvelenata si vede che non era un buon momento perché secondo me siamo tutti più felici che abbia fatto il cantante, no? Che si sia preso una laurea. Poi se l'è presa la laurea a Guccini, di cui stiamo parlando? Cioè era così, era in un momento di sconforto quando l'ha scritta questa cosa. Quindi la situazione è più, in realtà non è così superficiale e così vaga la cosa come tu hai idea in testa, cioè non è questa utopia che ogni tanto ti dici che sia perché sei per eccesso di serietà, no? Tu ti aspetti effettivamente ti senti, ti torturi, no? Perché dici ma io voglio questa cosa, ma è come questa, è come l'Eva con la mela, no? Ti senti tentata dal serpente e tu hai questa attitudine che dici mi volto dall'altra parte perché è troppo bella per me, cioè è una cosa che io sono più seria di così, io sono più serio di così, però in realtà in realtà ti dico questa cosa, questa situazione ti serve proprio per quello, bella mia o bello mio, cioè questa situazione è per te proprio perché forse devi devi andare verso, cioè è proprio quello che vuoi, capito? Cioè non stiamo a solo raccontare, è proprio quello che vuoi, è meglio che te ne fai pace con te stessa o te stesso perché a volte noi siamo quello, vogliamo quello, quindi la situazione non è illusoria per un semplice fatto che tu hai bisogno esattamente di questa situazione, cioè a volte la gente ha bisogno di innamorarsi nella testa se è una storia d'amore, cioè nel cuore, nella pancia, cioè è proprio perché la tua vita è diventata pesante che c'è questa situazione per te, ok? La tua vita è diventata pesante e tu hai bisogno di leggerezza, che sia che questa storia, se è una storia d'amore, ti deve insegnare la leggerezza, se è necessario che ti insegnano, vabbè, lasciate perdere l'italiano che vado in fretta in questi video, che sia qualunque tipo di cosa, a volte giocare col fuoco è interessante, diciamoci la verità, a volte abbiamo bisogno di qualcosa che ci renda felici, è come la classica persona che a Natale regala a un bambino un pigiama, a un bambino si deve regalare una cosa frivola, capito? Cioè lo regali i set da ufficio, mi è capitato di sentire anche questa cosa che hanno regalato a un bambino, no, cioè al bambino si regala una cosa bella e questo è il tuo regalo, è il tuo regalo di Natale dove ti hanno sempre regalato dei pigiami e ti è arrivata la cosa più frivola dell'universo ed è proprio quella che tu volevi perché è quella che ti rende felice ed è più importante essere felice che essere stabili, vi dico questa cosa, per cui è l'usoria, chi se ne frega, in questa risposta è chi se ne frega, vivitela, la do anche a me, così ci alleggeriamo l'esistenza e quindi se la persona davanti ti sembra che balli il cia 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 non sta ballando il cia 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 quello che ti sta dicendo è più seria quella persona di quello che tu credi e ti vuole ha le intenzioni più serie di quelle che tu pensi la prendi frivola perché te parti dal presupposto che quello davanti dovrebbe essere un banchiere con la faccia di paparazzinger ma non può essere così capisci perché se fosse un banchiere con la faccia di paparazzinger ti annoieresti e non saresti mai presa da questa persona oppure da questa situazione cioè se per esempio vuoi andare a fare Tarzan e tu invece sei il capo di Wall Street evidentemente ne hai le tasche piene rassegnati con te stesso e vivi l'avventura perché poi la vita si prenderà cura di te se i tuoi nonni i tuoi zii i tuoi genitori ti hanno insegnato ad essere una persona seria o la vita ti ha deluso tanto a un certo punto facciamoci una ragione non è che debba sempre andare male per forza cioè ok chiusa il discorso quindi la domanda è mi sto alludendo se ti stai alludendo in realtà secondo me no cioè secondo me no secondo me te lo chiedi troppo cioè devi viverti di più questa cosa lo dice anche il mio stomaco situazione numero 2 dado giallo qua andro più veloce i quelli prima sono stati avvantaggiati perché l'ho scelto io il dado quindi volevo sviscerare bene la situazione allora numero 2 dado giallo mi sto alludendo allora qui la situazione è un po' più complessa cioè più complessa in realtà la cosa è questa allora questa situazione apparentemente sembra più favorevole di quella precedente sembra più favorevole sembra che ci siano più presi posti affinché funzioni da fuori perché da dentro tu ti stai facendo questa domanda perché tu in realtà ti sembra di trascinare un po' l'altra persona ti sembra di essere tu il propulsore di questo rapporto se è un rapporto o se è un altro tipo di situazione tipo lavorativa o un'altra cosa che mi hai chiesto ti sembra di dover fare troppi sforzi per avere ciò che vuoi o ti sembra che sei sempre tu che devi fare le cose sei sempre tu cioè che ti devi preoccupare troppo rispetto che semini tanto e raccogli poco cioè diciamola riassumiamola non so come spiegarla cioè ti sembra di dover fare tutto tu e quindi a volte te lo chiedi perché dici qua si quaglia poco in realtà l'altra persona se è una persona diciamo che è proprio così il suo carattere cioè è una persona serena cioè non so come dire cioè non è una persona che apparentemente è calma ma in realtà come si può dire è nel suo periodo della vita in cui si sta prendendo del tempo ma per poi caricarsi a molla cioè non so come dire cioè prima o poi prima o poi arriva cioè sotto qualcosa che si sveglia no nella c cioè non so come spiegarlo cioè diciamo che se se la dovessi descrivere da fuori non tenendo conto di come sei tu starei tranquilla cioè starei tranquilla che non è che mi sta prendendo in giro se è una persona e non è che non ha diciamo che c'è più sostanza c'è più sostanza di quello che appai non è una persona che fa troppo rumore dal punto di vista che parla troppo e non da nulla qui diciamo che forse la tua perplessità è perché c'è anche troppa calma in questa persona c'è anche troppa ecco non siamo mai contenti cioè se troviamo un uomo che fa centomila promesse e poi non le mantiene ci sembra a volte che abbia più sostanza di uno che sta zitto e poi fai fatti perché dici ma com'è che questo non batte un colpo ma è lì perché sta facendo le sue cose lasciala stare o lasciala stare se invece una situazione è una situazione che ha delle possibilità tu effettivamente a volte ti chiedi se ti illudi però stai aspettando un giorno migliore un momento migliore in fondo sei anche positiva o positivo rispetto a questa cosa sei pronta ad aspettare ed effettivamente ti dico sei pronta ad aspettare perché non è che sei scemo o scema dall'altra parte c'è il senso di questo cioè l'hai inquadrata la situazione non so come spiegare dall'altra parte dall'altra parte effettivamente non c'è né cercare di ingannare non è una situazione ingannevole non è una situazione sbagliata sbagliata nel senso che c'è del dolo in questa cosa non è una cosa che non esiste cioè è una cosa che esiste però cosa mi dicono le carte qua però poi dopo cioè tutto sembra perfetto il problema il problema è che questa situazione è illusoria cioè è incredibile perché è il contrario di quello che è successo prima dove tutto sembra sbagliato invece tutto è giusto qua tutto sembra giusto però ti mi dispiace dirtelo forse dovevo darlo nelle avvertenze attenzione perché può non piacervi questa risposta tu pensi che in realtà si te lo chiedi ma in realtà non ti illudi perché c'è della sostanza però qua il risultato mi dice attenzione attenzione perché in realtà questa non è una situazione illusoria ma che lo sarà cioè che in realtà si rivelerà qualcosa di sbagliato cioè non qualcosa di sbagliato allora se accetti che in realtà sorgeranno dei contrasti o sorgeranno delle problematiche o già cioè non ci sarà un parto capito non ci sarà un travaglio di nove mesi dove poi nascerà un bambino ci sarà un travaglio costante se ti va bene di vivere nel travaglio costante se ti va bene anche quando l'altra persona si sbloccherà perché l'altra persona si sbloccherà in qualche modo però non ci sarà il lieto fine della favola di cenerentola ma sarà tutto non ci sarà l'happy ending nel senso sarà sempre così la situazione cioè sarà sempre così anche quando l'altra persona cambierà non ci sarà esattamente quello che tu ti aspetti che ci sarà non so come spiegarla che ti aspetti che ci sia poi vi dico sempre fatemi poi dopo se non capite una cosa che dico chiedetemela qui sotto se capisci che in realtà quel sogno che hai in testa non sarà mai quel sogno lì ma sarà qualcosa che esiste non ti dico che non esiste ma sarà un eterno conflitto un eterno tempo sbagliato perché quando l'altra persona si sbloccherà non si sbloccherà come esattamente lo desideri evidentemente questo è quello che mi dicono le carte allora va bene però è una situazione illusoria in che senso è illusorio perché non sarà mai ciò che veramente credi che sia o ciò che veramente vorrai esiste questa cosa è molto più concreta per esempio di quello che può aspettarsi qualcun altro però è una cosa che non ti andrà ad appagare cioè non sarà mai appagata non sarà mai pace non sarà mai calma non sarà mai non lo so se sei tu che dentro devi risolvere qualcosa secondo me sì secondo me questa sei tu che hai delle cose da risolvere con te stessa e con la vita cioè la situazione in sé sarebbe anche ha un suo senso secondo me devi trovare la pace interiore non c'entra niente questa situazione con la tua vita cioè con in questa situazione anche cioè sei tu che c'è qualcosa ecco sarà una lotta continua o comunque in questo è illusoria cioè che non ci vedo le happy ending cioè per esempio faccio un'ipotesi no? così ci capiamo meglio allora sei innamorata di questa persona che non batte un colpo che l'aspetti che dice un giorno arriverà in realtà ti chiedi se ti illudi però sei ottimista ok questa persona potrà anche arrivare cioè però poi dopo alla fine tu ti dirai tutto qui o comunque ci sarà sempre qualche problema quindi se ti va bene lo stesso ok credo che sia una situazione che serva a farti capire che in realtà anche quando ottieni ciò che desideri in realtà non sarai felice cioè non so come cercare di mettertela meglio comunque di base purtroppo secondo me questo cammino te lo devi fare lo stesso l'appagamento non c'è e non ci sarà non in questa relazione non in questa situazione che secondo me però ti dovrai vivere e quindi facciamoci una ragione allora terzo dado blu numero 3 quindi allora mi sto illudendo allora mi verrebbe da dirti sei cieco o cieca rispetto a questa cosa cioè non sai proprio cosa aspettarti cioè mentre la prima dado pensava sì mi sto illudendo dimmi che mi sto illudendo perché vuoi una scusa al primo dado per andartene il secondo dado lo chiede ma in fondo crede che sia una buona cosa ma in realtà abbastanza illusoria come situazione è tutto parto della sua mente io ti direi che tu non sai che risposta darti cioè tipo mi butto o non mi butto perché non è proprio sono cieco rispetto al fatto che sia un'illusione o meno cioè non so proprio da che parte sto andando è come entrare dentro le nebbie della Valpadana in autunno alle 5 di mattina cioè lasciamo per cioè nel senso non è una vaga idea allora allora non è una vaga idea in cosa ti stai buttando che quindi cosa ti posso dire di risposta stai resistendo perché proprio non sai se entrarci in questa nebbia o se non entrarci cioè non sai se metterti in questa relazione non sai cosa ti aspetta quindi tu sei nel dubbio proprio allora quello che faccio io in questi casi è mi infilo nella nebbia perché ovviamente la donna kamikaze questo fa è una situazione illusoria ecco tu sei la persona che di più tra le tre vuoi una risposta in realtà perché non sai veramente cosa hai davanti che cosa cavolo ti posso dire mi metti in difficoltà perché 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 è sempre dal dubbio totale e ti aspetti hai dubbi cioè sei una persona scettica di fronte a questa cosa guarda io ti direi che non è illusoria per un motivo semplicemente perché c'è il sole c'è nella carta proprio che mi serve per darti una risposta veramente definitiva se mi devo prendere la responsabilità di darti una risposta ti dico non è un'illusione nel senso che va butta cioè nel senso è difficile darti una risposta perché io da queste carte non riesco assolutamente a capire che cavolo vuoi allora secondo me qua non hai feedback cioè non hai feedback che ti interessano sicuri della situazione tu stesso o tu stessa in realtà sei perso e prigioniero o prigioniera della tua paura e delle tue indecisioni secondo me questa è la classica situazione che a prescindere da tutto cioè tu devi imparare a prenderti una strada nella vita cioè le carte mi dicono di dirti prendi una cazzo di strada perché anche se sbagli è comunque giusto cioè anche se fai una cosa e poi sbagli quello che devi imparare è a fare qualcosa cioè a uscire dal dubbio come si esce dal dubbio prendendo una decisione prendendo una strada e facendo una scelta se poi va male è sempre meglio che rimanere lì paralizzati dalla paura cioè questo ti voglio dire no cioè qua è tutto è buia cioè quella si mette le mani davanti agli occhi quell'altro è mister creiamo un'illusione a caso o miss creiamo un'illusione a caso o è una situazione che sembra che non riesce a prenderla con la mano no cioè metti la mano e non riesci ad afferrare quello che hai davanti quindi buttati se poi non c'è niente da afferrare e cadi per terra ti rialzi cioè l'amore se è un amore non ha mai ucciso nessuno che non si muore per l'amore è una gran bella verità se è una situazione di qualunque altro tipo di genere dietro non hai niente cioè se è una questione lavorativa cioè tu dietro non hai niente cioè io credo che tu non abbia niente da perdere se non perché parti dal niente cioè non so come dire perché non è un'illusione perché tanto non c'è niente da perdere veramente che cosa hai da perdere cioè questo mi verrebbe da dirti a pelle di pancia ma non so di cosa stiamo parlando capito cos'è cioè mi verrebbe da dire per esempio la situazione in cui ho paura di buttarmi con una donna ma è 732 anni che non ce n'ho una cioè quindi che cos'è che perdi la tua solitudine sì la tua tranquillità ma ti fa cioè no forse non so come dire ho paura di cominciare col nuovo lavoro ma non ce n'ho uno quindi di che hai paura cioè fallo se poi dopo c'è per qualche motivo c'è una paura secondo me sono più paure così campate in aria paure ragionevoli perché non vedo che vai a perdere nulla c'è solo da guadagnare nell'entrare in questa nebbia se no stai fermo lì ma non puoi neanche starci perché comunque questa situazione è già avviata e siccome parti da un presupposto che non c'è niente prima di questo che stai per fare o che vuoi fare e anche se ti butti nell'ignoto l'ignoto è già qualcosa rispetto a quello da cui stai partendo quindi buttati avanti senza paura perché ti dico che sia illusorio o meno no sei tu che stando fermo così crei un'immaginazione una fantasia sei un'altra persona anche quell'altra persona per cui mi verrebbe da dire scatena l'inferno cioè fai tu qualcosa perché così sei tu cioè se tu parti dall'illusione che non c'è niente lo so che è tutto molto io spero che qualcuno riesca a seguirmi se non c'è niente se è un sogno cioè alla fine rendilo tu realtà ecco esatto la risposta mia se è un'illusione crea la realtà tu che sia una realtà che poi va a finire male che sia anche che entri nel bosco e crei un film horror crea qualcosa non sta basta basta fermezza basta stare fermi assolutamente andare cioè creati anche il tuo no creati il tuo palo nei denti eventualmente io non ti dico che la risposta vuol dire che però qualunque cosa succederà sarà la cosa che assolutamente ti serve per cui buttati a capofitto in questa cosa anche se hai una relazione se hai una relazione con mi verrebbe da dirti il mostro di Loch Ness evidentemente hai bisogno assolutamente di andare avanti anche di prenderti i tuoi incubi cioè vivi il tuo incubo evidentemente perché altrimenti rimarrai fermo ecco la classica a me è capitata una cosa del genere assolutamente è capitata molti anni fa e avevo il terrore e sapevo benissimo che però se non fossi entrata nella selva oscura non sarei uscita dall'altra parte per cui poi mi è andata malissimo però era una cosa che sennò sarebbe rimasta illusione e qui il pericolo è proprio questo di rimanere nelle sabbie mobili del dubbio e dell'illusione levati il dente levati il dubbio secondo me comunque dall'altra parte del tunnel ci sarà il sole che sia con questa persona o senza che sia con questo lavoro o senza che sia con questa cosa che desideri o senza non importa qui se sarà un'illusione o meno importa che sopra il tuo impasse dal mio punto di vista cioè questa veramente che vivere nel dubbio non è una buona cosa ecco ti tormenta ti ammali il dubbio ammala secondo me a un certo punto bisogna levarselo il dubbio prendersi anche un no eventualmente o prendersi un sì eventualmente cioè perché sapete poi quante amiche c'ho che dall'altra parte perché io ho più amiche femmine per quello lo dico che dall'altra parte non sanno qual è la risposta e loro si buttano pure e dall'altra parte non c'è nulla cioè perché l'altra parte c'ha paura eventualmente non siate l'altra parte ecco se vi viene un dubbio buttatevi buttiamoci tutti e buttiamoci tutti giù da questo dirupo insieme vi tengo le mani virtualmente un bacio alla prossima